Ricorso illegittimo, la rimozione del baracchino andrà avanti. Ed ieri l'ordinanza con cui il giudice civile Antonino Fazio ha rigettato il ricorso di Marco Bertorelli, titolare dello storico bar di Barriera Genova. Il suo avvocato Emanuele Solari lo aveva presentato a inizio novembre ritenendo ingiusto e iniquo, se non abnorme, il provvedimento con cui il Comune aveva stabilito la demolizione del locale per gli omessi pagamenti del canone di suolo pubblico degli ultimi anni da parte della proprietà. Un pronunciamento complesso e articolato, quello del giudice ordinario, che di fatto riporta pienamente in vigore quell'ordinanza di sgombero rimasta congelata negli ultimi due mesi dopo l'iniziale accoglimento della sospensiva. Al punto che ieri, subito dopo aver appreso come si era espresso il magistrato, la Giunta Comunale ha incaricato gli uffici competenti di rimettersi al lavoro per completare la rimozione del baracchino, del quale oggi non resta che uno scheletro piuttosto spettrale nel cuore della città. L'avvocato della proprietà Emanuele Solari ha però annunciato che questa vicenda non finisce qui.